Come si può fare? Non abbiamo scelto di parlare di alcuni argomenti, di una tv sociale, di le tematiche più scottanti, che è una cosa assolutamente che è stata fatta da fare sempre e comunque, ma di avere un punto di vista diverso, che è quello di parlare di qualunque argomento, però, purché chi ne parla sia qualcuno che fa qualche cosa, che si pone come risolutore dei problemi, che si pone con una buona pratica, qualcuno parla di giornalismo costruttivo, gli anglosassoni parlano di questo, cioè cercare sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno, è un punto di vista molto forte, forse troppo forte per qualcuno, è sicuramente una scommessa parlare di buone pratiche, alla radio o comunque in un mezzo di informazione, infatti ci hanno messo il weekend, non ci hanno messo nel parincesto forte, il lunedì mattina, però ci hanno messo nel weekend con due puntate, il sabato e la domenica, la mattina, che è il momento di maggiore ascolto della radio, due ore in diretta, con l'interattività degli ascoltatori, e quindi una scommessa che Radio 24 ha fatto puntando a qualche cosa, non proprio una scartina, insomma. Una scommessa perché? Perché si dice che parlare di buone notizie non fa ascolti, non interessa, non fa ascolti. Allora io questa domanda la lascio lì così e ognuno risponderà. Io per parte mia potrei vantare gli ascolti che sono buoni per quel che vale il tipo di rilevazione della radio, che non è come quella della televisione, non è scientifica ma è un questionario che si fa al telefono, però dopo cinque anni siamo ancora qua, forse vuol dire che un po' di interesse c'era. È però una scommessa sicuramente larga, diciamo, sulla crescita, non proprio direttamente, non fai un programma per puntare alla crescita degli ascolti direttamente, ci sono vie più facili per ottenere questo, però badate bene, Radio 24 è una radio privata, è un network privato e quindi vive di pubblicità, gli ascolti li deve fare, così come vale un po' per tutti, insomma. È una scommessa larga perché prima di puntare, diciamo così, alla crescita dei nostri ascolti, puntiamo alla crescita di altri fattori, che però sono fattori che in una catena ampia, nella quale sta anche il tornaconto del programma, della radio e dell'investitore pubblicitario, è una catena più ampia, è un po' il discorso da sociologi dell'esternalità, no? positive, perché noi scommettiamo sulla crescita, prima di tutto, del nostro ascoltatore, perché cerchiamo di dargli una visione più ampia, no? delle notizie, su una crescita di credibilità anche di Radio 24, ma più in generale del sistema dell'informazione, forse perché cercando di indicare anche la strada e non solo tutte le cose che non funzionano, le denunce, le inchieste, gli scandali, eccetera, eccetera, ma esponendosi a dire questa cosa funziona e questa no, fai un passo diverso, un passo in più, un passo diverso, un passo di lato, vedetela come volete. Stamattina, per esempio, di cosa parliamo? Stamattina abbiamo parlato di il risultato dell'etichettatura, la trasparenza nell'etichettatura del latte, perché stanotte, sapete, è scaduto a mezzanotte il silenzio e assenso, e quindi da oggi in Italia e in Francia è obbligatorio scrivere nel latte e nei suoi derivati, quindi mozzarella, formaggio e quant'altro, l'origine, dove è stato lavorato e trasformato il prodotto. E questo ne abbiamo parlato con uno di Coldiretti, che insomma da 16 anni fanno questa battaglia, quindi l'imperativo a si può fare è persone che facciano e che portino in qualche modo una buona pratica di questo tipo, un risultato di questo tipo, quindi indicare la strada vuol dire esporsi, vuol dire però cercare di avere anche una credibilità in più come mezzo all'informazione. L'ultima esternalità positiva si punta su un altro elemento di crescita, che è proprio la crescita in generale del sistema sociale e economico, visto che Radio 24 ha un taglio anche molto economico nel quale viviamo, perché dando spazio ai protagonisti di queste buone pratiche, in qualche modo li gratifichiamo, gli diamo quei cinque minuti di notorietà che non si negano a nessuno oggi in televisione. Se sei l'autore di qualche ferato crimine, hai la speranza, la possibilità ragionevole di finire in televisione per diversi minuti, se sei uno che fa il suo lavoro onestamente, o se sei la Coldiretti che si impegna per questa roba, hai molte meno probabilità. E quindi, diciamo, questa è l'ultima esternalità, l'ultimo elemento di crescita su cui noi puntiamo, io personalmente.